Gometo devi avvicinare, invece poi spingere. Basta! Fai brusco, stai attento perché puoi rompere questo posto completamente. Braccio! Si storge! Basta! Si, 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 osto proprio così. Si, 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 attento, dai, 30 volte. se stia se stia come stia si stia qui stia oh! vedete chi è stato scattato se stia oh! vedete vedete ci sta scattato che stia dalle altre parci vai 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 non è stato per te va vai 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 e ora stia e ora stia oh! vedete vedete questo tu con quella che fai questo se mi cerchio mi ha preso sia lungo vedi se lui vieni qua anche si controlla vieni qua e stupi lo stesso basta che capisci basta che tu capisci facendo questo movimento prolungo tu mi tiri però fai cerchio continuo a girar ho fatto altra maniera non avvicina spingimi vomita verso di te poi ti verso così non devo capire stesso di come si spacca diciamo che io ti tengo di qua io ti attacco e invece di qua ti spingo però quando sarà spacciato con gambe lui non scappa male e anche se diciamo vedi che qualcosa non va fai i ponti e mi giri vieni qua adesso provo a girare con quella di prima di prova prova io vedo subito inserisco qua braccia per non permetterci e mi stai e tu vai sopra oppa non devi coprire proprio rimane così io mi libero e tu continui ad attaccare verso terra ma eppure mai 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 ahhh quest'altra lo stesso capito? eh ma queste cose abbiamo capito senti il polso attaccato bene se non va il polso se lo si attacco vedi come va i giri fai continui però presa con i tuoi pulsi rimane ferma sempre capito? tuoi sufocamenti di schiena ci porti al schiena soltoi si permettono sufocare di dietro si si solo così solo così ana non incroci ricordi quella sempre quella da sopra se si permettono queste cose puoi vincere anche così invece loro anche si sufocano pato e ridrizzo Ah, capito? Quello ricordi, vedi che non c'è un caso, lo sai. Può essere che ti chiudono così, da qui non ti liberi mai, 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 mai. Adesso devi pensare solo su un colpo, ogni tanto tu sei così e così. Vedi, ti vogliono soffocare, da questa posizione se sei così non ti soffocano mai. Poi, guarda, vedi, io posso soffocarti anche da qui, vedi, provare a andare. Invece tu attacca, attacca mia braccia e ridritta mia braccia. Tira mia braccia, no, 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 tira mia braccia giù, 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 e tienila, tienila, con ogni, sì, metti anche questo sotto, no, no, sotto, sì, vedi, io provo a liberarmi, invece, tu non, vedi, vuole, vuole, vengo qui, vedi, op, altra, così non permette. E prova a uscire più basso, più, oh, ancora, 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 oh, oh, vedi, e poi puoi girarsi, sì, aprivi, capito, però fai questo in modo brutto. Sì, eh, ti controlli, poi, questo come variante di difendere, vedi ancora una volta, ci sono quelli che non ti attaccano così, solo stanno così, in questo modo, e, vedi, cosa faccio, io ti giro, vedi, tu stai controllando i miei braccia, vedi, io vado qui, e poi, pac, 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 è qui, vedi, ancora una volta, io faccio, io posso, posso andare.